Da tempo immemorabile, la gente ha amato esplorare. Per aiutarti a continuare ad avanzare, Flipco.com collega i punti dalla tua città al tuo aeroporto. Ti piace volare, ma non guidare. Nessun problema con il GPS o con il copilota. Nessuno stress, nessun rischio di perdersi. Flipco.com ti viene a prendere da posizioni strategiche nella città più vicina. Ti piace volare? Ma non parcheggiare. Flipco.com ti lascia davanti all'aeroporto. Ti piacciono i taxi, ma non le loro tariffe. Le navette di Flipco.com ti portano all'aeroporto a un prezzo equo. Ti piace fuggire, ma con il Wi-Fi gratuito per tutto il percorso, senza preoccuparsi della connessione. Ami le avventure, ma in totale tranquillità. I nostri autobus sono controllati regolarmente. Arrivi e partenze sono affidabili e puntuali e siamo disponibili sette giorni alla settimana. Flipco.com ti dà il tempo per te stesso, spazio per le gambe e per i bagagli. Ti piace viaggiare, ma in uno spirito verde. Condividi il tuo viaggio con altri e riduci la quantità di veicoli sulla strada. Flipco.com significa meno emissioni di CO2. Pronto a scoprire le meraviglie del mondo? Cominciamo il viaggio insieme! Flipco.com, il tuo collegamento con l'aeroporto in un clic.